Sì, grande soddisfazione. Penso che la squadra sta andando bene e quando vengono i risultati diventa tutto molto più facile. Secondo te è un peccato che questa sosta natalizia arrivi proprio nel momento in cui la Roma sta esprimendo al massimo il suo gioco? Il gruppo è consapevole di questa sosta, di non fare abusi e cercare di stare attento per quando ritornare, di tornare ancora meglio. Tu stai trovando un po' la condizione, Ragneri ti sta chiamando in causa più spesso ultimamente, nelle ultime giornate come ti senti? Io mi sento bene, ho lavorato tanto, ho aspettato il mio momento e mi metto a disposizione come ho sempre fatto. Nel momento anche il rinnovo di contratto perché comunque tu sei in scadenza 2010 e lo sai che si parla di te anche in quest'ottica. Io sono tranquillo, la società mi ha lasciato sempre tranquillo, stanno parlando con il mio procuratore. Io cercherò di fare quello che sto facendo in questo periodo, lavorare e pensare solo dentro il campo, fuori il campo. C'è il procuratore che ci penserà a lui. Rodrigo, la classifica è corta, la Roma ora ha raggiunto il quarto posto, si può pensare anche più in alto? Si può pensare già nella prossima gara, passo per passo come stiamo facendo fino adesso, rispettando un avversario e cercando di fare il nostro meglio come abbiamo fatto oggi.